Allora buongiorno, sono particolarmente contento perché oggi sarà una puntata nella quale cercheremo di fare chiarezza su molte cose che sono state raccontate e dette. Allora, primo, mancano 96 ore alle elezioni in Abruzzo e il tema dei cosiddetti spiati e spioni, il dossieraggio, entra prepotentemente in questa campagna elettorale. Ieri Meloni era in Abruzzo per sostenere il suo candidato alla presidenza della regione e ha parlato del caso, ma ha parlato anche, adesso poi lo ascolteremo, il capo dello Stato. E io voglio proprio partire da qui, da Mattarella, che ha detto, la voglio leggere testualmente, la libertà di stampa è un elemento indispensabile della democrazia. Allora qui bisogna chiarire, da una parte c'è un'inchiesta giudiziaria doverosa e che speriamo al più presto faccia luce, ci faccia capire qualcosa di più su questi accessi che sono stati fatti, su le figure che ruotano attorno a questo caso, il tenente della Guardia di Finanza, il ruolo di laudati, magistrato antimafia. Da una parte c'è l'inchiesta giudiziaria e dall'altra parte ci sono i giornalisti che quando ricevono o hanno una notizia, hanno l'obbligo di pubblicarla, perché se qualcuno ha una notizia e la tiene nel cassetto, quello è un ricatto. Do il benvenuto a Emiliano Fittipaldi, che è il direttore del Quotidiano Domani. Quotidiano Domani da giorni è al centro di una bufera politica e anche giudiziaria, perché i tre cronisti del pool investigativo del domani sono ora sotto inchiesta per proprio questa vicenda. Intanto grazie per essere con noi, Emiliano. Abbiamo la nostra Isabella Ciotti che si trova in Abruzzo e tra poco ci racconterà tutto a 96 ore, da quelle che sono elezioni molto molto attese, si trova su un binario ferroviario in quel di Cocullo e poi scopriremo perché. Ludovica Ciriello invece si trova davanti ai palazzi, era sotto la sede del Quotidiano Il Tempo, ora diretto da Tommaso Cerno, se non ricordo male, se non vedo male. Qual è la tua missione di oggi, cara Ludovica? La mia missione di oggi, Davide, intanto è parlare, buongiorno a te, con esponenti del Forza del Governo o comunque del Partito di maggioranza di Giorgia Meloni che ieri si è espresso in modo molto netto sulla questione del presunto dossieraggio, ha parlato addirittura di regime. E quindi intanto partiamo da questo, ti faccio vedere, qui sta grandinando sotto Palazzo Chigi e al momento Giorgia Meloni è dentro il suo ufficio con Matteo Piantedosi che stanno incontrando i sindacati di polizia per quell'altro caso che ha scosso la politica che è quello dei manganelli, quindi seguiremo sicuramente anche questo. Bene, allora grazie Ludovica Ciriello. Emiliano, voglio partire facendo riascoltare ai nostri telespettatori che cosa ha detto ieri Giorgia Meloni prima di salire sul palco per sostenere il suo candidato alla guida della regione Marsilio. Sentiamo che cosa ha detto Meloni. Vedremo che cosa ne verrà fuori, sentiremo domani le audizioni anche dei procuratori che hanno chiesto di essere auditi dalla Commissione Antimafia. Io penso che sia francamente gravissimo che in Italia ci siano funzionari dello Stato che hanno passato il loro tempo a violare la legge facendo delle verifiche su cittadini comuni e non al loro piacimento per poi passare queste informazioni alla stampa e particolarmente ad alcuni esponenti della stampa perché, voglio dire, utilizzare così le banche dati pubbliche non c'entra niente con la libertà. Grazie. Grazie. Allora, era la nostra Erna Testi, peraltro, di Tagadà che le ha fatto la domanda, quella che tutti si aspettavano. Allora, Fittipaldi, proviamo a ricostruire passo passo, però tenendo presente che cosa ha detto Meloni di voi. A proposito di regime, allora, è la prima volta, credo, nella storia del Paese che un ministro, in particolare il ministro Crosetto, lecitamente fa un esposto a un magistrato non per dire che l'inchiesta che noi abbiamo fatto sui suoi conflitti di interesse e sui soldi che prendeva da Leonardo un milione di euro l'anno fosse falsa o diffamante, perché tutto quello che abbiamo pubblicato era vero, verissimo. Tant'è vero che non c'è stata mai nessuna querela. Ma fa una richiesta per cercare le nostre fonti. Questo è tutto parte da qui. Vediamo la pagina, vediamo l'inchiesta, grazie Monti. Chiedo alla regia, l'inchiesta di domani parte da qui. Così il nuovo ministro della difesa, Crosetto, ha incassato milioni di euro da Leonardo. Dice giustamente il direttore Fittipaldi, Crosetto non si arrabbia. Cioè, la notizia è vera. No, no, lui minaccia querela, poi non la fa la querela perché non può farla, perché la notizia è vera, con un conflitto di interesse evidente, perché il ministro della difesa va a comprare da Leonardo, è un ente compratore della società dove prima lui incassava denaro. Quindi per me c'è un conflitto evidente. Ma al netto di questo, la cosa che io ritengo grave da un punto di vista democratico è che la procura di Perugia, prima la procura di Roma e poi la procura di Perugia, si mette a cercare, fa caccia alla fonte. Trova la fonte, ma non indaga soltanto il pubblico ufficiale che ha commesso per motivi che poi verranno verificati questa fuga di notizie. Indaga tutti i giornalisti, con cui, non solo noi tre, anche altri, con cui questa fonte ha avuto rapporti. Qual è il punto? A, non c'è nessun dossieraggio. Lo dice lo stesso la procura di Perugia. La procura di Perugia, tre giorni fa, ha fatto un'anza dicendo che non c'è dossieraggio. C'è un unico sospetto. Spieghiamo che si intende per dossieraggio. Dossieraggio significa questo. Significa che tu prendi delle notizie, costruisci le notizie fondamentalmente false, ma anche vere, su soggetti pubblici e non pubblici, utilizzi quel dossier, lo tieni nel cassetto, e utilizzi quel dossier e quelle notizie come fonte di pressione o di ricatto. Questo è il dossieraggio. Si sta confondendo il legittimo giornalismo investigativo per spionaggio. Che cosa, qual è il problema? Facciamo continuare. Facciamo continuare. Voi non avete spiato nessuno. Ma non abbiamo spiato nessuno. Cioè, voi avete, lo voglio raccontare bene al pubblico, voi avete, come tutti i giornalisti, hanno le proprie fonti. Cioè, le persone che fanno parte di quella rete di informazioni o che vi possono segnalare... Noi di Striano ne abbiamo decine. Ecco. Non solo di Striano, abbiamo decine di, all'interno delle forze dell'ordine, all'interno della magistratura, all'interno delle persone comuni, tra gli avvocati, tra le persone che hanno in qualche modo accesso a dossier segreti, abbiamo persone che compulsiamo per cercare di svelare al pubblico i segreti del potere. La domanda che viene fatta è, Eravate voi a chiedere a Striano di darvi delle notizie o chiedere... Qualcuno dice on demand, voi... Ma se io devo fare... Faccio un esempio. Se io ho... Devo fare un'inchiesta sulla casa di Renzi, perché scopro che Renzi... Oppure su i soldi che l'acquamarcia di Centofanti e di Bellavista Cattegione dava a Conte, 400 mila euro di fattura all'anno. Abbiamo parlato tante volte. Oppure su Crosetto. Io riesco a avere delle informazioni da X persone. Io devo iniziare a verificare, per esempio, sulla casa di Renzi, se effettivamente, come mi ha detto una fonte, c'è stato un prestito, non c'è stato un prestito, quel prestito è stato restituito, se erano degli amici... Lì parte l'inchiesta giornalista. Lì parte l'inchiesta. E io vado da chiunque per cercare di verificare quelle informazioni. La cosa che io devo fare, da buon giornalista, è quello di capire se la fonte mi sta dando delle informazioni vere e credibili, se quelle notizie sono di pubblico interesse e se sono in qualche modo notizie che non sono state prese da uno che ha ammazzato qualcuno per avere quelle notizie. Poi ho il dovere di pubblicarle. Perché il Washington Post che pubblica i Pentagon Papers oppure il New York Times che pubblica le dichiarazioni dei redditi di Trump, che cosa ha fatto quello? Qualcuno gli ha passato quel dossier, l'hanno chiesto, probabilmente sì, lo potevano avere le fonti, forse sì, forse no, forse no. In America un tipo di giornalismo di questo tipo viene premiato col Pulitzer. In Italia tu rischi di finire, come già è successo quando ho fatto l'inchiesta in Vaticano, rischi di finire accusato di aver rubato documenti riservati, fatto spionaggio, dossieraggio... In America se non ho e qua sei un bandito. E finisci in galera. Qua sei considerato un bandito. Sì, però questo è molto pericoloso. Ti voglio fare una domanda. Perché è chiaro che un giornale piccolo come il nostro, composto da 17 giornalisti, di questo stiamo parlando, è che uno dei pochi giornali di opposizione del Paese fa comodo alla maggioranza in qualche modo tentare di attaccarlo per limitarne la libertà. Adesso per noi sarà molto più complicato avere fonti, avere persone che si avvicinano per darci le notizie interessanti su Meloni, sui ministri. è molto più complicato così informare, anche perché le fonti si spaventano. E gli stessi giornalisti in qualche modo dicono cavolo, non sono i nostri, ma se noi facciamo inchieste pulite, perfette, dicendo la verità, mai perso una quarela in vita nostra, mai diffamato nessuno, beh, a questo punto non ci conviene, la gente si autocensura. Se tu stai giustamente spiegando al pubblico attenzione, noi dobbiamo verificare le notizie che ci arrivano, la nostra inchiesta parte dal momento in cui ci arriva una carta, una notizia, e da lì noi cominciamo a fare le verifiche se quella fonte dice la verità. Questo è fondamentale. No, ma lo dicevo per il pubblico. Ma c'è una domanda in queste ore che è questa. Giorgia Meloni dice vogliamo sapere chi sono i mandanti perché questi sono meglio di dare il giro. Allora, ti voglio chiedere, quando Meloni, lasciamo per un attimo e poi torniamo anche a Mattarella, giustamente avete messo in prima pagina il Colle difende la libertà di stampa e la fotonotizia di oggi parla più di qualunque altra cosa, Mattarella e Meloni vicino. Ma è legittima questa domanda di Giorgia Meloni? Cioè, anche tu vuoi sapere perché questo striano della Guardia di Finanza faceva, secondo i giornali oggi, più di 800 accessi, migliaia, si parla di migliaia di persone che sono state in qualche modo monitorate, non voglio dire dossierate. Ed è tutto legittima la domanda che fa Giorgia Meloni. Cioè, io non conosco striano, non l'ho mai sentito in vita mia, non so chi sia. Però è una vostra fonte, questo ormai è chiaro. È una nostra fonte nel senso che negli atti d'accusa ci sono alcuni documenti, quasi tutti non segreti, che sono passati da lui a uno dei miei cronisti indagati, Giovanni Tizian. Io non so chi sia striano e perché ha fatto quei migliaia di accessi. So quello che abbiamo pubblicato noi, cioè alcune inchieste sul potere. Certo. Agli atti però, dico due cose, agli atti oggi d'accusa non c'è la presenza di mandanti. È un'inchiesta che va avanti da un anno e mezzo. Può essere il sospetto, perché qualcuno si domanda ma come mai fai striano faceva tutta questa roba? Qui per curiosità, soltanto per dare notizie ai giornalisti o c'era qualcosa dietro che noi ancora non abbiamo capito? Francamente non l'ha capito nemmeno ancora la procura di Perugia. Quello che dice l'avvocato di Striano, perché Striano non ha mai parlato, è completamente diverso, anche per non prenderci quello dell'Astriano. Lui dice io ho come capo delle SOS della DNA, perché lui era il capo insieme a Laudati che era il suo diretto superiore, Laudati, il magistrato dell'antimafia, il SOS che ha indagato anche lui. Ufficio segnalazioni operazioni sospette. Adesso lo vedremo. Lui dice io avevo questa è la sua giustificazione, poi bisogna andare a vedere se è vero oppure no, io avevo il dovere di fare degli atti di impulso. L'atti di impulso vuol dire che lui poteva studiare queste carte giudiziari e poteva studiare queste SOS, costruire dei, non costruire dei dossier, ma costruire delle accuse che poi mandava alle procure. E questo è quello che lui dice che ha fatto e lui spiega gli accessi in questo modo. Io stavo facendo soltanto il mio lavoro. Hai fatto molto bene a ricordare le parole dell'Avvocato di Striano che dice anche qualcosa in più, dice il mio cliente è in grado di difendersi e dice addirittura è in grado di dimostrare, poi vedremo, è l'Avvocato della Difesa che parla, che quegli accessi che il mio cliente cioè Striano ha fatto, li ha fatti non a capocchia sua perché gli girava ma perché in realtà gli era in qualche modo consentito di farlo. Allora, su questo io vedo che c'è il mollicone di Fratelli d'Italia che è lì che sta ascoltandoci con Ludovica Ciriello e magari ora ovviamente lo sentiremo. Voglio darvi però un altro dato che è questo. il gruppo SOS 2022 SOS è come vi ho detto segnalazioni operazioni sospette cioè Banca Italia segnala che ci sono delle operazioni finanziarie sospette magari dei bonifici che arrivano dall'estero dei bonifici che hanno un importo come dire elevato che fa suonare una sorta di alert e quindi si attiva una procedura normale normativa europea peraltro in base alla normativa europea in cui si verificano queste operazioni. C'è questa centrale che è il SOS allora guardate questo dato nel 2022 circa 150.000 segnalazioni quindi procedimenti come dire in qualche modo attivati la chiamiamo pesca strascico è la banca del consumatore cioè che da qui parte la prima segnalazione facciamo conto che io ti faccio un bonifico a te dall'Arabia Saudita a un paese a caso a Roma adesso questo ci fa arrivare e la banca banca intesa banca Fideura banca Montemarski apre una segnalazione questa segnalazione finisce alla UIF e la UIF comincia a lavorarla non è che la lavora tutte perché poi spesso ci devono chiamare e noi dobbiamo giustificare come mai se la giustificazione è chiara la pratica si chiude subito se la giustificazione non è chiara invece si apre un procedimento più complesso e quindi la UIF si mette a lavorare quando invece alcune segnalazioni diventano non giustificabili molto particolari automaticamente le SOS finiscono alle procure e infatti di queste che stiamo parlando nel 2022 il dato è impressionante nel 2022 sono 150.000 le segnalazioni di queste 150.000 segnalazioni che non vuol dire che c'è un problema è una segnalazione 408 diventano poi denunce penali e quindi diciamo così da operazioni sospette diventano immediatamente oggetto di indagine e ora la mole di segnalazioni sono tante poi quelli che sono i procedimenti esecutivi che diventano sono 408 Mollicone le posso chiedere solo un flash poi dobbiamo salutare Fittipati che ha la sua riunione di redazione voi avete accusato direttamente il domani in realtà però le voglio far commentare anche le parole del capo dello Stato che ha detto che la libertà di stampa è un elemento indispensabile per la democrazia loro hanno pubblicato una notizia se se la fossero tenuta nel cassetto e beh lì sì forse sarebbe stato un problema che ne pensa Mollicone che innanzitutto le parole del presidente Mattarella sono condivisibili come concetto di principio ma è anche condivisibile l'articolo 15 della Costituzione che ha citato il ministro Nordio sulla tutela della privacy sulla necessità di verificare se intercettazioni captazioni o altre forme di diciamo di pubblicazioni notizie riservate sia strettamente necessario alle indagini o meno in questo caso non parliamo di indagini in questo caso il domani in maniera coincidente con le accertamenti fatti dal finanziere che giustamente si difende dicendo ma io se le ho fatti qualcuno me l'ha chiesto e lo posso dimostrare quindi sarà molto interessante capire chi glielo ha chiesto ha intervenuto intercettando in senso creandosi come fonte striano o chi per lui e pubblicando delle notizie che non avevano nessuna cornice giudiziaria preesistente ma noi facciamo i giornalisti mica facciamo i giudici ma potremmo fare però ha ragione il direttore dice ha ragione ma trasformate trasformate il vostro giornale avete trasformato il vostro giornale in un tribunale basandosi su iniziative indiziarie che come lei stesso ha detto come lei stesso ha detto non avevano nessuna non erano ancora notizie di reato ma io non faccio io non faccio il giudice io faccio il giornalista io pubblico delle notizie interessanti se io penso che Cosetto è in conflitto di interesse ma quando mai mi descriva il senso di interessanti secondo il lemma per esempio se io pubblico io lo spiego se io pubblico se io pubblico se io pubblico ha comprato una casa una macchina che c'entra la casa io non ho fatto l'inchiesta sulla casa di Cosetto che sta dicendo io ho fatto l'inchiesta sui soldi che Cosetto prendeva da Leonardo prendeva un milione di euro l'anno e poi si è messo a fare il ministro della difesa interessante o no? si se ne è parlato per due mesi di quell'inchiesta ho fatto l'inchiesta sul tesoriere della Lega che sono stati condannati in primo grado sono stati condannati in primo grado ma che sta dicendo no le venine aspetta mettiamo ordine ma che sta dicendo no no che sta dicendo scusate mettiamo ordine mettiamo solo un po' di ordine per il pubblico allora un giornalista il direttore scusami scusi Mollicone Mollicone no aspetta aspetta questo è pericoloso mettiamo solo un po' di chiarezza a proposito di regime questo è pericoloso un direttore di un giornale un direttore solo un parlamentare io dico che questo ragionamento Mollicone è pericoloso perché limita la libertà di stampa ed è il potere che vuole dire ai giornalisti cosa deve pubblicare e cosa no questo è inaccettabile voi dovete vedere se le notizie che vengono pubblicate sono vere oppure no se le notizie sono vere il giornalista ha il diritto e il dovere di pubblicarlo basta non ci sono discussioni nei paesi civili e normali non si fa questa cagnara ma mi scusi ma mi scusi ma l'attitolo 15 in Costituzione ma quella cagnara voi avete pubblicato notizie che non avevano nessun interesse giudiziario ma che me ne frega ma non fa il PM scusatemi però mettiamo Monti scusami un attimo facciamo un po' di chiarezza della discussione perché poi va tutto benissimo allora il tema è che il direttore Emiliano Fittipaldi del domani uno ci mette la faccia ha la responsabilità di guidare il giornale se commette una cosa che uno ritiene non giusta lo prende come purtroppo accade e lo porta in tribunale questo succede nella libera stampa di un paese ora siccome non siamo nella mosca di Putin fino a prova contraria i giornali hanno non solo il diritto ma credo l'obbligo in democrazia di pubblicare quelle che possono essere notizie di interesse pubblico non fa il magistrato lui cioè contestiamo l'interesse pubblico Fittipaldi con il suo giornale ha pubblicato delle veline di atti privati che non avevano nessuna connescia giudiziaria attiva tant'è vero che il ministro Crosetto e tutti quelli il ministro Crosetto e tutti quelli coinvolti sono parte l'ESA ma che sta dicendo Crosetto avrebbe dovuto pubblicare quei dati che erano il suo reddito la settimana successiva sul suo sito perché sono dati sensibili il ministro deve dire deve pubblicare i dati sui redditi che guadagna che sta dicendo non sono dati sensibili voi politici dovete pubblicare i dati dei vostri stipendi che sta dicendo Molicone lei non sa di che parla lei è un turista del giornalismo il problema che è il giornalismo è fondamentale allora l'unica io credo che la domanda più interessante da farci ma che difficoltà non è sulla libertà di stampa ma sull'accesso abusivo a sistema informatico ma mica l'ha fatto loro l'abbiamo fatto noi non sono un anche io non sono in grado di fare l'acqua ecco però forse l'equivoco non sono a meno cedere cellulare di divulgare dati sensibili senza nessuna inchiesta giudiziaria ma non funziona così il giornalismo ma non funziona così della cosa va bene allora un istante solo piccolo passo avanti Molicone rimanga lì sulla vicenda ha intervenuto Mattarella lo abbiamo evocato io vorrei farvelo sentire però perché anche il timing con il quale il presidente Mattarella e le parole che Mattarella ha valuto usare beh anche questo mi sembra interessante in questa fase sentiamo Mattarella e poi vediamo gli altri ospiti prima di salutare il direttore Fittipaldi vai Mattarella libertà di stampa fondamentale per la nostra democrazia o per qualunque democrazia che vede nella nostra costituzione una tutela netta chiara indiscutibile a fronte alla quale vi è una assunzione di responsabilità da parte dei giornalisti la lealtà la indipendenza dell'informazione la libertà di critica nel rispetto della personalità altrui e rispetto dei fatti ma è un elemento indispensabile della nostra democrazia elemento indispensabile per la nostra per la nostra democrazia altra cosa è invece l'inchiesta giudiziaria su Striano e Laudati ripeto Striano guardia di finanza che ha fatto l'accesso e il procuratore antimafia allora quello che ti voglio chiedere poi ti lascio perché so che è la ruota di redazione quindi immagino che state preparando altre cose ma la famosa domanda del perché Striano lo ha fatto è di interesse giornalista secondo te è una questione alla quale è interessante capire però tutta questa mole di persone che sono state attenzionate questo si può essere interessante ed è giustissimo che la procura cerchi di capirlo anche la domanda di Meloni se c'è un bandante è del tutto legittima secondo me non c'è nessun bandante però è del tutto legittima diciamo che l'inchiesta di Perugia va davanti e lo capisca Meloni addirittura ha detto ecco finisce tutto nel giornale di De Benedetti peraltro è certo perché forse siamo più bravi degli altri ma al netto di questo avere fonti buoni al netto di questo quando questo lo spiego perché a volte uno non sa veramente il mestiere che noi facciamo le fonti vengono dai giornalisti e danno informazioni ai giornalisti per mille motivi diversi possono darli perché si sentono dei donkey shot che vogliono dare informazioni per colpire quelli che loro considerano delle corruzioni o delle criminalità possono farlo per vendetta cioè possono dare delle informazioni vere perché vogliono colpire un gruppo di potere e sostituire il loro gruppo di potere a quell'altro gruppo di potere possono farlo perché si sentono defraudati perché hanno fatto una carriera che non funziona questo al giornalista che ha quelle carte deve interessare il giusto nel senso che una volta il numero due dell'FBI ok che diede le carte sul suo presidente sul Nixon che avrebbe carte segretissime che avrebbe dovuto difendere scusi Mollicone poi la lascio su cui avrebbe dovuto difenderlo in tutti i modi possibili e immaginabili i due cronisti del Washington Post hanno avuto per anni informazioni riservatissime di sicurezza nazionale che quella fonte una gola profonda non l'avrebbe mai dovuto consegnare sono finiti attaccati ovviamente dal potere da Nixon in tutti i modi dicendo esattamente le stesse cose che diceva Mollicone e alla fine loro però in differenza in Italia hanno vinto il Pulitzer è diventato la grande storia e Nixon qui ci hanno messo sul banco delle mutate esattamente la stessa cosa è capitata sotto scritto sette anni fa in Vaticano quando alla fine sono stato assolto sono stato accusato di aver rubato informazioni di aver avuto accesso con delle fonti a segreti di Stato Vaticano di aver messo in pericolo la storia della Santa Sede a me non mi frega niente perché la fonte mi dà quelle notizie le notizie devono essere vere verificate devo pubblicare perché il mio unico padrone è il lettore e la pubblica informazione e basta grazie Emiliano Fittipaldi il paragone mollicone come Nixon rimarrà nella storia dell'aria dell'aria che tira grazie grazie a voi al direttore del domani sì fatemi salutare anche Flavia Perina editorialista della stampa la senatrice Laura Ravetto della Lega deputata deputata oggi ne sbaglio tutti Laura Ravetto della Lega e Alessia Vorani il partito democratico candidata alle elezioni europee e questo è anche vero grazie Fittipaldi grazie a voi mollicone Nixon questo è il paragone eh sì sì Francesco Borgonovo c'è già scusa perché se no è collegato allora saluto Francesco Borgonovo grazie per essere con noi vice direttore l'americano ma è nato in italì come dici mollicone prego dicevo Fittipaldi Fittipaldi vuole fare l'americano ma è nato in italì citando una nota canzone e le leggi italiane sono totalmente diverse peraltro non prendo lezioni da Fittipaldi da domani perché il presidente della commissione cultura editoria di cui mi onoro essere appunto rappresentante è stato avuto il plauso della commissione europea proprio sull'atto europeo sulla libertà dei media che riguarda proprio la libertà dei giornalisti e la segretezza delle fonti e grazie alle nostre osservazioni abbiamo avuto il plauso della commissione europea che ci è arrivato per iscritto quindi non prendiamo lezioni sulla libertà di stampa condividiamo le parole del presidente Mattarella ma nel pezzo che avete fatto sentire lui si riferiva alla libertà di critica e chi la mette in dubbio la libertà di critica ma il presidente Mattarella è anche presidente del CSM e giustamente si dovrà occupare anche delle violazioni del segreto istruttorio perché Fittipaldi fa finta di confondere la libertà di stampa con la libertà di mettere in pagina intercettazioni e captazioni fatte che non hanno nulla a che vedere magari con l'esito della vicenda giudiziaria ma che in gergo non sono intercettazioni cioè le intercettazioni non sto parlando dei dossieraggi sto parlando della libertà di stampa Parenzo quando lui divendica libertà di stampa e dice che loro possono pubblicano atti giudiziari anche quello non si può fare chi lo fa cioè i magistrati o le procure che propalano intercettazioni ai giornalisti commettono creato allora grazie a Mattarella questo lo sa perfettamente si riferiva alla libertà di stampa e alla libertà di critica che nessuno mette in dubbio grazie grazie mollicone sentiamo adesso ovviamente tutti gli altri ospiti ripartirò anche dal vice direttore della verità Francesco Borgonovo perché la verità anche un giornale non facciamo finta di nulla che ha le sue fonti magari sono fonti diverse da quelle del domani ma anche voi avete le vostre fonti dentro la polizia dentro la guardia di finanza come è giusto che sia come avviene in tutti i giornali anche Elislein ha parlato di questa inchiesta di questa grande vicenda mostrando grande preoccupazione e paura e allora ve la voglio ve la voglio far ascoltare è uno scandalo ed è anche una cosa di una gravità inaudita se ci sono stati questi 800 accessi illegittimi a dei dati sensibili di personalità varie politiche e non solo e quindi bisogna fare estrema chiarezza noi abbiamo chiesto di audire e domani accadrà sia il procuratore nazionale antimafia Melillo che cantone della procura di Perugia per fare chiarezza fino in fondo ed evitare che possano ancora accadere fatti di questo tipo allora riprendiamo da qui con tutti gli ospiti dopo la pubblicità gli spiati li avete visti distinguiamo l'inchiesta giudiziaria dall'inchiesta giornalistica autorevolissimi ospiti per parlarne tra poco allora 11.35 anche in studio il nostro dibattito continua ritornerò subito dal vice direttore della verità Francesco Borgonovo perché anche la verità fa le sue notizie fa le sue inchieste ha le sue fonti sentiamo prima però un istante la politica con Ravetto e Morani avete sentito il direttore del Domani che si è confrontato con l'esploriente di Fratelli d'Italia Mollicone qual è l'aspetto politico della vicenda o la cosa che più vi inquieta teniamo distinto quello che scrive l'inchiesta giornalistica dall'inchiesta giudiziaria io ho ascoltato Fittipaldi che è stato molto abile a spostare vittimisticamente sulla questione del giornalista la fuga di notizie ma qua il tema è che noi chiediamo chiarezza ma non come politici Parenzo come cittadini perché qua il tema non è la fuga di notizie o la non fuga di notizie e questo lo deciderà l'inchiesta e i magistrati stessi hanno precisato che hanno coinvolto i giornalisti anche a loro tutela perché dovrebbe essere il primo Fittipaldi come tutti i giornalisti a voler la verità e quindi c'è anche una tutela nei loro confronti qua il tema che ci sono stati 800 accessi a banche riservate con una violazione dell'articolo 15 della Costituzione in momenti nevralgici per il Paese penso per esempio prima della formazione di un governo a danno di quelle persone lì che sono vittime poi voi direte ah c'è anche la moglie di Conte ci sono anche esponenti di sinistra che però per il 90% sono combinazioni esponenti di centrodestra tra l'altro il partito che qui rappresento della Lega ha moltissimi esponenti mi sembra chiaro che è uno di quelli più bersagliati da questo tipo di dossieraggio e quindi noi ci riserveremo e stiamo valutando delle azioni a tutela di queste persone ora io credo che sia interesse suo della Morani mio di tutti i cittadini fare chiarezza su una situazione di questo tipo perché lei ha detto non siamo nella mosca di Putin ma questo sembra un dossieraggio a chiaro stampo sovietico dovrebbe preoccupare anche lei che in un sistema che dovrebbe essere democratico non influenzato con la separazione dei poteri ci siano poi incredibilmente dei funzionari ora un funzionario che interesse dovrebbe avere un funzionario è chiaro che dovrebbe essere accertata e guardi questa chiarezza e questa chiarezza non la chiediamo solo noi e anche la stessa Schlein ha detto con lo scandalo ma anche i vertici delle attuali istituzioni perché anche i vertici attuali dell'antimafia che hanno già messo in atto dei sistemi di sicurezza che forse nelle gestioni passate non c'erano stanno chiedendo che si faccia chiarezza quindi io non capisco chi ha paura della chiarezza perché quando vedo persone che fanno scusi io non l'ho interrotta poi lei mi dirà se siete tanti giornalisti ci sarà spazio per tutti mi farete mille repliche o tre persone che mi faranno tutte e tre controrepliche ma no che è Borgonovo ma nessuno è contro chi ha paura della chiarezza chi fa una sorta di ostruzionismo a me i sospettivi ecco no Morane sì arrivo penso che noi siamo stati i primi a chiedere chiarezza e a maggior ragione trasparenza rispetto a quello che è accaduto le parole della nostra segretaria nazionale sono molto chiare poi occorre distinguere tra l'inchiesta giornalistica che ci insegna la storia del nostro paese il giornalismo è fondamentale per la tenuta della democrazia e i giornalisti fanno il loro mestiere è un conto invece sono questi presunti servitori dello Stato perché parliamo di un magistrato e di un ufficiale della Guardia di Finanza che pare abbiano commesso degli illeciti sono persone lese probabilmente ma secondo me parte lese vera è l'antimafia nazionale la procura nazionale antimafia perché questa delegittimazione nei confronti della procura nazionale antimafia è molto pericolosa per cui noi dovremmo risistemare tutti i tasselli di questa inchiesta e dovremmo sistemare anche queste tonnellate di vittimismo che sento da destra perché stanno evocando il complotto ai danni della destra però poi anche qui i tasselli vanno rimessi a posto perché mi insegnano che bisognerebbe capire questo magistrato coinvolto a quale corrente della magistratura faccia parte non mi risulta una toga rossa non mi risulta anzi mi risulta esattamente l'opposto e bisogna anche capire da chi erano gestiti quegli uffici perché siccome si evoca il complotto della sinistra di De Benedetti vorrei ricordare a tutti che il capo di quell'ufficio da cui pare siano stati fatti questi accessi è un magistrato che oggi ricopre grazie alla nomina di questo governo del ministro Nordio un ruolo di tutto rispetto e di grande spessore che è quello del capo del Dato per cui non vorrei che alla fine io metto lì un'ipotesi fosse un regolamento di conti tutto dentro diciamo l'albero del centro-destra questo è un sospetto o semplicemente è un'ipotesi che però lancio lì non ci sono prove per cui però diciamo è una provocazione oppure pezzi dello Stato che rispondono chissà chi adesso voglio sentire i due giornalisti ovviamente sentite però Italo Bocchino ieri sera da Floris c'ero anch'io che cosa ha detto lui ha parlato di un complotto forse guidato dalla sinistra non si può urlare al complotto dell'opposizione non si è mai vista l'opposizione è un complotto del PD in questo caso il rischio è il complotto del PD lo dici per scherzo è tutto il governo la maggioranza e anche l'alleato scomodo dei mandanti ci sono perché è impossibile che un signore si chiude in un ufficio fa 800 accessi poi diventeranno 8000 accessi ci sono una serie di ministri c'è qualcosa di torbido in questa vicenda allora Borgonovo Perina però ci chiarisce le tonnellate di vittimismo da destra all'intervento di Bocchino se posso allora eviterei di dare lezioni sul vittimismo perché se i politici intercettati e spiati fossero il PD a quest'ora avremmo tonnellate di titoli di talk show di qualunque cosa ci sono però ci sono con l'anternino li abbiamo visti tutti le percentuali quindi se ci fosse la stessa la stessa mi lascio concludere grazie per capire se no sto zitto poi mi spiate quello che penso però no nessuno spia guai guai ma lo so benissimo lo so benissimo tra l'altro è veramente poco interessante spiare me quindi io penso che se a parti invertite avremmo titoli sul fascismo la spectra la stasi e tutte le cose sta nella normale dialettica politica non facciano le vittime gli uni non fate le vittime voi che le fate già abbastanza detto questo il complotto dell'opposizione caro David ci può anche potrebbe anche esserci per quello che ne sappiamo anche perché non è che uno molla il governo scusami non è che uno molla il governo e poi non ha più addentellati nelle case matte del potere che la sinistra ha molto ben gestito negli anni quindi volendo potrebbe esserci il punto è che allo stato attuale non lo sappiamo ci sono due questioni molto diverse una è quella dei giornalisti che giustamente fanno il loro mestiere se hanno una notizia e se è vera la pubblicano a prescindere dalla fonte cioè Borgonovo giusto per spiegare al pubblico voi avete la domanda dritta è anche per la Perina ovviamente ma la verità avrà tra i suoi informatori io li chiamo informatori o fonti guardia di finanza polizia magistrati avvocati cioè avete nella guardia di finanza avete qualcuno che vi passa le notizie ogni giornalista ogni giornalista ha le sue fonti no? ed è normale che le abbia ed è normale che le protegga va bene? allora il punto è capire perché poi le chiacchiere stanno a zero perché un signore della guardia di finanza fa 800 accessi dei database allora le ipotesi sul campo scusate le ipotesi sul campo sono poche o è pazzo per cui mette si è bloccato si è bloccato Skype insistiamo Borgonovo che è fondamentale Perina guarda a mio giudizio il problema non sono i documenti riservati o più o meno riservati che sono stati pubblicati da domani il problema sono quelli non pubblicati perché l'attività di dosieraggio non è che succede quando si pubblicano i documenti succede quando qualcuno ha dei documenti offerti da fonti riservate e quei documenti restano nel cassetto e a quel punto come è successo tante volte nella storia italiana e anche nella politica italiana dove la guerra dei dossier e anche all'interno degli schieramenti si è combattuta tante volte con carte tenute nei cassetti e a quel punto là è il problema quindi le tre o quattro cinque pezzi di carta finiti a domani a me non inquietano per niente è una dinamica ordinaria del giornalismo è più inquietante immaginare le altre 794 carte frutto di questi 800 accessi documentali che fine hanno fatto e anche là dico prima mi dispiace aver che abbia pensato ora detto che volevo interromperla ma io volevo darle ragione perché alla fine una delle cose più sensate in questa circostanza l'ha detta incredibilmente Matteo Salvini quando ha detto chiedetelo alla finanza perché la persona di cui stiamo parlando Striano è un ufficiale di un corpo a ordinamento militare quindi con una gerarchia molto precisa tra l'altro sottoposto alla catena di comando del ministero delle finanze quindi io credo che sapere i motivi per cui Striano faceva quegli accessi a chi ha dato i documenti non quelli di domani sappiamo quelli di domani a chi sono stati dati ma gli altri documenti dove sono finiti dove sono finiti sappiamo che c'è addirittura un amministratore di condominio un investigatore privato tra le persone che hanno avuto pezzi di carta da lui non mi sembra una cosa così complessa perché appunto è un questa è la domanda che giustamente Flavia Perina dice ci dovremmo fare Pasquale Striano di cui non abbiamo foto quindi abbiamo messo questo finanziere di spalle Pasquale Striano esattamente a chi rispondeva se rispondeva a qualcuno perché ha fatto questi accessi e dove sono finite tutte queste ammole le istituzioni nella fattispecie il ministero delle finanze che controlla la guardia di finanza e la finanza abbiano tutto l'interesse a diventare soggetti di chiarimento in questa vicenda sentiamo Salvini e forse abbiamo recuperato spero anche Borgonovo perché mi interessa molto e poi posso anche io di una cosa sequestro Borgonovo io personalmente non da vicepresidente del consiglio non dal segretario della Lega ma da cittadino italiano dal libero cittadino italiano che vuole vivere in un paese libero Matteo Salvini denuncerà in tutte le procure della Repubblica italiana questa vergogna che non può ripetersi andare a spiare padri e madri di famiglia e vedremo se qualcuno sapeva se qualcuno ordinava se qualcuno voleva e se qualcuno ne approfittava le domande di Salvini prego Borgonovo allora io ho perso un pezzo perché non vi sentivo spero che ora mi sentiate benissimo un conto è la questione dei giornalisti che pubblicano le cose poi bisogna capire se questi giornalisti in qualche maniera fanno come dire si rendono partecipi di qualche operazione io non penso che Trocchia e Tizian si mettano lì a tramare contro le massime cariche dello Stato su Vergine sappiamo che c'è scritto nelle carte si sospetta che ci sia un file da lui prodotto in cui Vergine è spieghiamolo al pubblico sono i tre cronisti che sono in questo momento sotto indagine sono Nello Trocchia Tizian e Vergine io conosco personalmente il lavoro di Nello Trocchia so che è uno che ha indagato a destra a sinistra quindi non penso che si metta lì a fare i complotti le cose saranno appurate quando uno fa il giornalista d'inchiesta si muove su un crinale quindi ci sta che delle volte finisca in mezzo a vicende di questo tipo mi auguro che i colleghi ne escano a testa alta anche se hanno opinioni differenti dalle mie e però dicevo di questo striano come giustamente diceva Flavia Perina ci sono un po' di cose da capire perché o è pazzo allora si metteva lì a prendere delle informazioni e rischiare la pellaccia la carriera per dare notizie a dei giornali magari vuole fare il martire della verità sembra un po' curioso o lo faceva per un tornaconto personale quindi prendeva dei soldi in qualche maniera e questo già sarebbe come dire un pochino meno corretto anche da un punto di vista deontologico cioè se io pago una fonte perché faccio delle cose illegali per darmi dei soldi certo già oppure c'era un altro interesse può anche darsi che fossero Streano e il magistrato di riferimento da Udanti che per i fatti loro andavano a pesca strascico e cercano di prendere delle cose che servissero magari in determinati momenti anche perché poi le tempistiche sono interessanti delle varie ricerche prima di nomine prima di questo prima di quell'altro e lì se è così forse la questione è persino più grave che qualche articolo su un giornale perché se ci sono i magistrati e abbiamo visto tutto il caso Palamara tutta una serie di cose che non sono significanti allora a quel punto io mi chiedo ma è normale che ci sia un magistrato per lui che per ideologia per simpatie politiche per i fattacci suoi si permette di fare una cosa del genere cominciano a essere un po' tante le cose il caso Palamara l'abbiamo visto le chat in cui si diceva Salvini c'ha ragione ma bisogna colpire le abbiamo viste se c'è pure questa cosa qua la situazione non è bellissima questo non significa che tutti i magistrati italiani siano le tonghe rosse queste cose c'è una storia veramente molto brutta perché non è una storia di poco conto è una storia grande e brutta quindi bisogna che si faccia chiarezza io spero che si faccia infatti ci interessa seguire sia l'evoluzione che avrà l'inchiesta giudiziaria però lasciamo che i giornalisti come tu sai bene lavorando in un giornale che di inchieste le fa ha le proprie fonti e se le fonti sono corrette una volta verificate le cose vanno pubblicate tutto questo abbiamo detto Assange che è uno che viene accusato di aver messo addirittura a rischio la vita di quello e quell'altro in alcuni casi Assange diciamo però ha fatto un altro vestiere Assange ha fatto un hackeraggio puro andando a pubblicare anche gli indirizzi di casa dei deputati che non ha nessun interesse giornalistico credo però è un altro ne parleremo vediamo in Abruzzo che cosa accade non resta sulla contraddizione perché qui cadi e qui va bene appunto c'è il reato che va bene e il reato che non va bene ti sento male però a scatti purtroppo rimettiamo a posto la connessione Assange pubblicato dei documenti pubblicato dei documenti rimettiamo a posto la tua connessione perché davvero se no ti sento a scatti e mi dispiace che non riesco a interloquire come vorrei con te Beppe Ferrante in Abruzzo e i dossier piombano nella campagna elettorale 96 ore si vota non ci sarà l'effetto Sardegna ma guarda intanto l'effetto Sardegna lo dobbiamo ancora vedere perché ancora non si è capito neanche com'è finita meglio non affidarsi completamente alla foto a tre contagliani e Salvini a Teramo arriva Giorgia Meloni da sola per sostenere il suo candidato alle regionali abruzzesi Marco Marsilio e attacca subito sull'inchiesta d'ossieraggio penso che sia francamente gravissimo che in Italia ci siano funzionari dello Stato che hanno passato il loro tempo a violare la legge è sostenitore o no di Giorgia Meloni? sì sono molto simpatizzante non si è mai parlato dell'Abruzzo dicevo l'altra sera in famiglia non si è mai parlato del nostro Abruzzo mai come adesso nella città dove fu il rettore e lo sfidante Luciano D'Amico la Premier va a tutto campo dalla linea Roma-Pescara ai fondi di coesione contare sul fatto che essendo io eletta qui è brutta e mi cacciate Giorgia Meloni è stata eletta qui ma era mai venuta prima Giorgia Meloni? oggi stasera veniva le sere la Meloni è venuta 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 si è parlato tante di milioni tante di benessere ma io dalla Bruzzese da Terraman tutto sto progresso tutta sta crescita economica in questi anni non l'ho vista Meloni poi è a Pescara con Tagliani e Salvini e ritorna sul dossieraggio passare le notizie ad alcuni giornali segnatamente al giornale di De Benedetti vogliamo sapere chi sono i mandanti sotto la pioggia battente gli interventi dei leader sono veloci Matteo Salvini scompare durante l'inno di Mameli la Meloni chiude con lo sguardo alle europee io ci ammesso l'elmetto e vinceremo anche questa battaglia ma intanto partiamo dall'Abruzzo Morani la vetta operina allora l'elmetto in testa che valore hanno le elezioni in Abruzzo a 96 ore dal voto ma intanto penso che lei sorride sull'elmetto no io sorrido perché oramai la nostra presidente del consiglio si lancia in queste performance diciamo che non dovrebbero appartenere tanto a un presidente del consiglio ma diciamo più al cabaret però queste sono opinioni personali detto questo credo che agli abruzzesi interessi veramente poco dei dossieraggi e delle accuse che fa la Melonia De Benedetti interessa che la sanità in Abruzzo è disastrosa e che Marsiglio abbia governato davvero male tant'è che tra gli ultimi posti per gradimento dei presidenti di regione insieme in buona compagnia al mio della regione Marche Francesca Acquaroli quindi penso che agli abruzzesi interessi questo la Sardegna è stata una svolta perché lì abbiamo vinto che che ne dicano abbiamo vinto e la presidente Todd è al lavoro soprattutto sui dossier che anche in Sardegna il principale è quello della sanità perché il diritto alla salute purtroppo è diventato un diritto per pochi mentre dovrebbe essere un diritto per tutti universale e quindi credo che su questo noi dovremmo concentrarci e fare anche un po' meno promesse di centinaia di milioni che piombono dal cielo durante le campagne elettorali per poi vedere le infrastrutture disastrose come possiamo osservare purtroppo soprattutto nel territorio di centro andiamo lì a Cocullo con la nostra Isabella Ciotti dove c'è la famosa Roma Pescara è in ballo una partita nazionale in Abruzzo mi pare di capire però Ravetto in Abruzzo gli abruzzesi dovranno scegliere tra un presidente uscente che ha fatto bene al contrario di quello che dice la Morani si è ritrovato con dei conti disastrati l'accusa è che vive spesso a Roma che fa avanti e indietro si è trovato però no 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 con dei conti disastrati e li ha messi in ordine e di là un accrocchio di partiti che si sono messi tutti insieme che tra loro non vanno d'accordo che non hanno un programma comune che non la pensano su niente è il campo larghissimo quello stesso campo che vede come sta funzionando in Basilicata dove si stanno prendendo schiaffoni perché non riescono a mettersi d'accordo perché è normale fino all'altro ieri Calenda diceva che i 5 Stelle erano il diavolo i 5 Stelle dicevano che quegli altri erano il diavolo e adesso diciamo fanno questa formazione geometrica senza valori comuni per tentare di quindi questo è le elezioni regionali sono soprattutto la scelta di un candidato di un presidente uscente il giudizio su come ha governato il candidato ha un peso importante anche più dei partiti poi detto questo questo candidato non si vergogna dei suoi leader anzi ne fa avanto aspetti un attimo ne fa avanto e fa e li porta sul palco mentre insomma il candidato di sinistra quasi li nasconde poi oggi andrà pure Schlai però loro diciamo che cercano di perché sa la fotografia da Calenda Conte più Schlai insomma sarebbe credo abbastanza imbarazzante noi invece tutti insieme ci andiamo sul palco perché noi siamo uniti e quindi andiamo tutti insieme sul palco e siamo orgogliosi di andarci però mi faccia anche dire che se abbiamo pochi minuti no perché volevo ritornare un po' sul precedente argomento tanto lo riprendiamo nei prossimi giorni promesso perché quella richiesta la seguiamo mi spiega Flavia Perina qui che cosa rischia soprattutto Giorgia Meloni che anche in questo suo comizio che non è un comizio finale perché ci sarà un altro appuntamento credo in Abruzzo nelle prossime ore ma l'idea dell'elmetto l'idea noi dobbiamo rivincere ripartiamo da qui e poi la prossima tappa l'idea dell'elmetto è collegata allo shock sardo che ancora agisce quindi diciamo quella che poteva sembrare per molti versi non dico una passeggiata ma una facile camminata verso gli europei dopo il voto sardo appare più complessa il tema dell'Abruzzo sarà a mio giudizio quello della partecipazione a differenza che in Sardegna in Abruzzo il centrodestra era avanti di molti punti di oltre dieci punti quindi secondo te la partita in realtà si gioca si gioca su quanti diciamo tra gli elettori di sinistra saranno riportati alle urne dall'effetto di galvanizzazione di incoraggiamento che è uscito dal voto sardo quindi tu dici un'importante affluenza alle urne è possibile che avvantaggi il candidato della sinistra mentre se le cose restano più o meno sull'affluenza alle urne ordinaria del 22 o di 5 anni fa i punti di vantaggio del centrodestra in Abruzzo erano veramente tanti e sono molto difficili da recuperare anche con un ottimo candidato con un buon candidato come è un rettore universitario molto stimato in regione quindi la battaglia abruzzese è più facile per Giorgia Meloni perché parte da posizioni migliori ciò nonostante siccome poi ci sono altre due elezioni regionali il dato sardo ha reso chiaro a tutti che non sarà comunque una passeggiata una piccola doccia fredda ecco una piccola una riflessione su questi sei mesi che ci separano dalle europee dove le prove non sono tutte scontate diciamo non si può dare più nulla da scontato e questo si vede anche dall'enorme impegno che in queste due settimane hanno messo anche tutti i ministri dell'area governativa in questa partita abruzzese che prima insomma sarebbe stata normalmente quasi snobbata andava e invece non è così dobbiamo un secondo in Sardegna metà della Sardegna non è andata a votare a proposito di affluenza si vede che non si riconosceva per dire allora la pubblicità subito dopo torniamo con Federico Rampini che è in studio con noi ci collegheremo in diretta con Capitol Hill e poi ci ritorneremo alla Casa Bianca con Daniele e con Patangelo la notizia però sulla quale torneremo tra poco esplosione a Odessa Zelensky col Premier Greco in città tutti i dettagli tra poco si parla di un attacco missilistico russo vi daremo i dettagli tra poco allora sono nel 12.05 Federico Rampini è in studio con noi e stasera ci sarà dalle 21.15 il suo grande ritorno sulla 7 con la prima di 4 puntate le inchieste da fermo e ne parleremo ne parleremo nella giornata in cui peraltro pochi minuti fa esplosione a Odessa con Zelensky che è in visita con il Premier Greco e vi daremo gli aggiornamenti Adriana Bellini buongiorno Tg la 7 ciao buongiorno Davide sicuramente anche nel nostro telegiornale ci occuperemo di Ucraina in apertura però al momento abbiamo il tema infuocato dei dossieraggi con la Presidente del Consiglio Meloni e la segretaria del Partito Democratico Schlahn unite nel chiedere chiarezza sulla raccolta abusiva di dati sensibili da parte di funzionari dello Stato ma c'è anche di rilievo in questo momento Giorgia Meloni che sta incontrando a Palazzo Chigi i sindacati delle forze dell'ordine e David stanno uscendo proprio adesso notizie tra l'altro a dimostrare l'importanza dell'incontro c'è la presenza di altri ministri Piantedosi Tagliani anche Giorgetti Meloni ha detto poco fa che è ingiusta la sistematica denigrazione delle forze di polizia forze di polizia a cui chiede il rispetto delle regole che è democrazia poi è tornata a parlare anche dei fatti di Pisa chiede alla polizia verifica su errori e abusi dice capiamo insieme come migliorare però oggi David come tu ben sai parleremo anche del Super Tuesday negli Stati Uniti d'America perché ci sono state appunto le primarie in moltissimi stati davvero importanti per definire quella che sarà la nomination di luglio per le elezioni presidenziali di novembre insomma quello che si profila è un nuovo confronto scontro tra Biden e Donald Trump David grazie grazie Adriana Bellini allora bentornato in studio a Federico Rampini ci tengo particolarmente di ricordare che oltre a essere una grande firma del Corriere della Sera questa sera torna sulla 7 con il programma che nella precedente stagione ha avuto un grandissimo successo inchieste da fermo la prima puntata è dedicata proprio agli Stati Uniti l'America di Biden tra gli ospiti ci sono Walter Veltroni Antonio Di Bella l'economista Alec Ross e anche Corrado Augas ne parleremo ci darai qualche anticipazione sul tuo racconto molto originale che questa sera farai saranno 4 puntate e giustamente nel giorno del Super Tuesday partite dagli Stati Uniti ti devo però chiedere prima un commento vorrei portarti a Odessa perché magari abbiamo delle immagini che vi vogliamo mostrare una forte esplosione è stata segnalata oggi proprio a Odessa dove ci sono c'è un incontro previsto tra il presidente ucraino e il premier greco Kriakos Mistotakis le immagini che vediamo sono prese da Telegram adesso tra poco la regia ce le manderà nel video postato sui social si vede un corteo eccolo qua di diverse limusine e minibus secondo le fonti l'esplosione è avvenuta vicino al porto della città ed è stata preceduta da un allarme da un allarme aereo ora per chi non ricordasse Odessa è una città che non è rispetto alla zona dove ora si guerreggia ormai da due anni è più distante ma è una città simbolo per gli ucraini e per i russi una città simbolo è anche una città molto importante come porto navale adesso aspettiamo di saperne di più di avere più dettagli su questa esplosione la natura l'origine la causa però il commento che mi viene da fare è questo Putin sente un'Ucraina più debole meno sostenuta dall'Occidente anticipa anche delle elezioni americane che potrebbero aiutarlo rafforzarlo indirettamente e quindi dobbiamo aspettarci probabilmente un inasprimento una recrudescenza dell'aggressione russa per mettere alle corde l'Ucraina che è in difficoltà è un chiaro avvertimento a Zelensky che si trova lì la situazione di pericolo noi qui con te l'abbiamo raccontato anche tante volte all'inizio del conflitto dell'invasione russa dell'Ucraina gli americani Biden chiamò Zelensky per dirgli ti portiamo in salvo scappa e Zelensky rispose io non ho bisogno di un taxi ma ho bisogno di armi allora da qui ti voglio riportare invece agli Stati Uniti partiamo dal dato che cosa ci racconta questo Super Tuesday Matteo Salvini ha tweetato poche ore fa entusiasta facciamolo vedere il tweet di Salvini così vedete quanto le elezioni americane siano poi entrate nel nostro dibattito pubblico l'entusiasmo di Salvini il silenzio per ora di Giorgia Meloni Salvini dice eccolo qua avanti i repubblicani avanti Trump avanti col cambiamento vince in 14 stati l'analisi di Rampini per quanto riguarda l'Italia Salvini si comporta più da capo partito e la Meloni da capo di un governo che quindi ha rapporti con l'amministrazione in carica no l'analisi la farei su Super Tuesday da un lato si potrebbe dire nessuna sorpresa i due candidati continuano nella loro quasi ineluttabile marcia verso la sfida finale di novembre non ci sono state davvero non ci sono stati colpi di scena d'altro lato però se vogliamo analizzare in maniera un po' più sottile questo Super Tuesday vediamo da entrambe le parti delle emorragie di voti cioè a destra il grande tema è quegli elettori repubblicani che hanno votato per Nikki Haley sono una minoranza non c'è dubbio a seconda degli stati diciamo in una forchetta tra il 10 e il 20% ma poi a novembre andranno su Trump o se ne staranno a casa o addirittura voteranno democratico perché sono esiste dentro il partito repubblicano una fascia per quanto piccola di anti-Trump a oltranza e questo è un problema per Trump in un paese dove ormai soprattutto le ultime elezioni presidenziali si giocano su dei margini sottilissimi dall'altro lato noi abbiamo questo fenomeno degli uncommitted cioè anche qui tra un 10 e 20% a seconda degli stati i democratici c'è un solo candidato in campo democratico c'è solo Biden una parte degli elettori per manifestare la loro profonda ostilità a Biden vanno alle primarie fanno lo sforzo di andare alle primarie per dire io non lo voto poi Biden deve vedere sarà anche con due candidature indipendenti di disturbo il figlio di Bob Kennedy ambientalista personaggio particolarissimo pure lui e su tutte cose di cui parleremo stasera la mia puntata è un viaggio dentro la sinistra americana il partito democratico le sue lacerazioni contraddizioni l'altro candidato di disturbo Cornel West è un afroamericano molto radicale che può portare via pochi voti tra i giovani ma pochi voti a volte sono decisivi in America comunque tornando invece al programma di stasera alle 21.15 il vero tema è come mai con un'economia così forte l'America è così profondamente insoddisfatta del suo presidente cos'è che non funziona a sinistra perché stasera ci occupiamo della sinistra è apparentemente un'economia che scoppia di salute la più dinamica del mondo sta stravincendo e quindi cosa non piace di Biden del leader democratico questa è la grande domanda che mi farete stasera allora c'è poi una foto che ti voglio far commentare che è quel famoso bacio sulla fronte dato da Sleepy Joe come lo chiama in modo irrispettoso Trump e questa volta ha fatto moltissimo discutere io ho visto sia negli Stati Uniti perché Fox News la tv dei conservatori dei repubblicani l'ha ripresa e l'ha usata forse è stata più discussa quasi negli Stati Uniti che non in Italia lo parleremo tra poco Daniele Compatangelo buongiorno che abbiamo conosciuto ieri che è entrato la Casa Bianca caro Daniele buongiorno sono le 6 e un quarto del mattino lì a Washington e tu ti trovi a Capitol Hill sei andato lì perché? perché il 6 gennaio del 2021 ci fu un evento clamoroso che ha impressionato tutte le democrazie del mondo io credo e ha forse fatto esultare viceversa le autocrazie che è questo incredibile assalto che ha segnato un po' la storia di questi ultimi anni degli Stati Uniti allora Compatangelo sei lì a Capitol Hill cosa ci fai vedere? ti dobbiamo anche sentire diretta quel 6 gennaio mi sentite? sì sì vai 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 ecco e noi e noi l'abbiamo seguito anche in diretta quel 6 gennaio vi facciamo vedere siamo davanti proprio a una delle tre scalinate questa porta alla Camera del Senato dove questi manifestanti chiamiamolo così che non erano insurrezionisti comunque hanno poi sono saliti hanno invaso spaccato le finestre vi faremo poi vedere dopo dall'interno sono entrati e hanno messo sotto sopra sia il Senato che la Camera dei rappresentanti ma quello che preoccupa è ma perché negli Stati Uniti ci sono solamente due candidati non ci sono dei volti nuovi e la preoccupazione è proprio questa se Trump perderà queste elezioni ci troveremo davanti ad un altro 6 gennaio perché lui dirà nuovamente io ho vinto le elezioni non le ha vinte il Presidente Biden quindi l'America in questo momento è molto divisa e il problema fondamentale del perché il Presidente Biden sta perdendo punti tra i giovani e tra la classe media è un po' il carovita ma specialmente è il problema dell'immigrazione perché sono entrati 8 milioni negli ultimi anni da quando il Presidente Biden è Presidente 8 milioni di immigrati e molte di queste persone hanno commesso reati sono mantenuti dal governo quindi la classe media che sta soffrendo per l'immigrazione ha paura tu dici facci vedere dentro Capitol Hill e torno e giro la domanda però a Federico Rampiri quelle immagini tanto hanno impressionato noi europei noi occidentali forse anche gli americani ma non tanto dal spaventarli e poi c'è la sentenza della Corte Suprema Americana che ha detto no Biden si può candidare allora mi puoi spiegare tu che sei il più grande conoscitore degli Stati Uniti come è possibile che questa roba qui non abbia impressionato l'elettore la classe media americana l'elettore medio di Trump si potrei ci sono tanti americani che quel giorno furono spaventati indignati e che naturalmente giurarono di non votare Trump ma probabilmente già non lo avevano votato ti risponderei partendo proprio dalla Corte Suprema cosa ha detto la Corte Suprema cassando bocciando la decisione di una Corte Suprema inferiore quella dello Stato del Colorado che aveva cancellato Trump dalle liste elettorali la Corte Suprema degli Stati Uniti sostanzialmente ritiene leggo nel pensiero di questi giudici togati più importanti degli Stati Uniti Trump quel giorno certamente ha aizzato gli animi ha istigato i suoi sostenitori e i più fanatici poi hanno commesso delle cose orribili alcuni dei quali peraltro sono già stati condannati ma questione con le corna per intenderci lui però non ha tentato di orchestrare un colpo di Stato certamente non non c'erano gli estremi per quella atto sedizioso contro la Costituzione contro la Repubblica che avrebbe fatto scattare il famoso quattordicesimo emendamento e la sua esclusione ed è abbastanza vero cioè con tutte le leve del potere a disposizione di un presidente degli Stati Uniti se lui veramente avesse voluto organizzare un golpe avrebbe fatto tante altre cose gli strumenti a disposizione c'erano ecco invece ha detto delle cose incendiarie o scene davanti a una folla in parte di normali repubblicani in parte di scalmanati pronti al peggio ha delle responsabilità ma non tali da escluderlo dalla gara e a destra poi naturalmente tutto questo è stato anche aggravato nella percezione dei trampiani è stato aggravato dal fatto che una buona metà dei processi contro di lui sono dei processi burla sono dei processi tipo quello di New York sui soldi che lui ha dato a una porno star e quindi alimentano l'idea di una congiura alimentano anche il mito che lui usa che è una cosa che in Italia abbiamo in parte vissuto sono tutti contro di me l'establishment tu lo racconti molto spesso i democratici l'establishment pezzi dello Stato sono contro di me io sono l'uomo del popolo e infatti non mi vogliono sentiamo però pochissimi secondi cosa ha detto Trump dopo la vittoria e poi torniamo a un'anticipazione di quello che ci racconterà stasera Trump nella notte in cui ha avuto la notizia della vittoria del Super Tuesday Now le parole d'ordine sono molto chiare chiuderemo i nostri confini abbiamo avuto un'invasione e allora ti chiedo mentre il nostro compagnano sta entrando è dentro Capitol Hill ma è in modo assolutamente civile accreditato la cosa bella è che sono le 6 e 20 adesso torno da te 6 e 20 del mattino lì è già tutto aperto se vai alla Camera dei Deputati a Roma trovi tutto chiuso mentre lì alle 6 e 20 del mattino è tutto aperto Federico le cose di Trump che abbiamo sentito come risponde a questo la sinistra i democratici americani quali sono le parole d'ordine la risposta più semplice da darti è la sinistra si spacca su questo tema questo è il punto di forza uno dei punti di forza di Trump cioè è vero che la sinistra Biden l'amministrazione Biden ha gestito malissimo il controllo delle frontiere lui ha citato 15 milioni no la doppia questo fa parte del fa il ganass però 2 milioni all'anno di migranti illegali sono troppi creano un senso di disordine sociale di insicurezza sono associati a fenomeni di criminalità reale la sinistra è divisa c'è una sinistra radicale che è la sinistra no border frontiere aperte a tutti Alexandria Ocasio Cortez forse il personaggio ne parlerò stasera c'è una sinistra invece per esempio amministratori locali il mio sindaco il sindaco di New York la città dove abito da 15 anni è disperato perché gli si sta letteralmente sfasciando il bilancio municipale per l'assistenza a questi migranti non ce la fa anche una città ricca come New York non riesce a reggere l'urto di questo arrivo di migranti illegali e quindi esplodono tutte le contraddizioni tant'è vero che Biden ultimamente addirittura ha offerto ai repubblicani di fare quello che vuole Trump cioè di chiudere si può chiudere volendo manda l'esercito e il confine viene blindato cosa è successo che a questo punto sono i repubblicani che non gli danno la soddisfazione di questo accordo bipartisan perché gli conviene lasciar marcire la situazione migratoria da qui a novembre è uno degli argomenti a favore di Trump e questo lo può aiutare allora mentre stiamo parlando con Federico Rampini alla CNN si dice che Nikki Haley annuncerà oggi l'abbandono della corsa presidenziale lo dice la CNN secondo fonti vicine alla candidata repubblicana e quindi questo in qualche modo potrebbe cambiare sì allora è la naturale ti credo sulla parola è la naturale conseguenza di un ahimè il verdetto dei numeri è implacabile io avevo conservato ma faccio ammenda pubblica un minuscola speranza che lei abbandonando la corsa repubblicana perché in campo repubblicano ha perso e basta accettasse magari di correre come indipendente sotto la bandiera del movimento no labels però questo non è escluso forse allora se se questa traduzione è letterale qui si parla di abbandono della corsa presidenziale non della corsa alla nomination repubblicana vediamo vediamo lo vediamo e stasera 21.15 Federico Lampina ancora un minuto con noi Compatangelo si trova dentro Capitol Hill allora a te un flash prima di chiudere sì un flash è questo ci troviamo davanti all'ingresso della camera dei rappresentanti una di quelle delle due camere attaccate durante il 6 gennaio ma vi vogliamo far vedere ora i corridoi specialmente dei luoghi anzi meglio mettersi di qua che vedete meglio luoghi simbolo questo se l'avete visto un po' in tutti i giornali e la aspetta che ogni tanto stacca ecco la rotonda si blocca la rotonda ecco un attimo dovrebbe riprendersi il segnale Federico Lampina lo conosce benissimo questo posto questa è la rotonda dove ci sono tutte le presentano gli Stati Uniti se il segnale non si blocca perché il Capitol Hill è stato costruito da un italiano ed è un po' somiglio un po' al Vaticano ci sono i muri molto molto spessi e infatti tutto va contro di noi perché ci vediamo ma insomma il segnale va grazie con Patangelo Federico Rampini questa sera 21.15 prima delle quattro puntate inchieste da fermo grande focus sugli Stati Uniti ci vuoi anticipare anche le altre tre puntate quali saranno la seconda esattamente il mercoledì successivo sull'America di destra quella che vota o non vota Trump ma comunque contro Biden di sicuro e poi ci sarà una puntata sull'India che è la più grande democrazia del mondo e va al voto per prima molto prima degli Stati Uniti va al voto in primavera e la quarta e ultima puntata sempre ogni mercoledì alle 21.15 dedicata alla speranza africana e che prende il via anche dall'inchiesta che hai fatto nel tuo libro nel tuo libro che ricordiamo allora abbiamo la pubblicità non ti ho chiesto nulla su questa vicenda tutta italiana dei dossier ma sulla vicenda su come la stampa americana insomma invece ha un'antica tradizione diciamo dal Watergate in poi di giornalisti che vengono premiati con il Pulitzer mentre qui spesso molti vengono anche attaccati per il loro lavoro e per aver pubblicato delle notizie questo è solo per legare diciamo quello che è negli Stati Uniti sì al tempo stesso non so se questo vi consola o vi deprime ma la stampa americana non è più quella di una volta un po' come anche la magistratura americana è sempre più politicizzata divisa per fazioni trovare un giornale indipendente equilibrato al di sopra delle parti faccio fatica anche negli Stati Uniti qual è la tua prima lettura negli Stati Uniti allora devo leggere il New York Times perché la qualità rimane notevole soprattutto delle corrispondenze dall'estero sulla politica americana è un giornale schieratissimo a sinistra leggo molto il Wall Street Journal che soprattutto nella parte delle news nelle opinioni il Wall Street Journal è un giornale repubblicano ma non trampiano interessante nelle news è più freddo e equilibrato rispetto al New York Times grazie a Federico Lampini che troviamo stasera alle 21.15 sulla 7 pubblicità e noi ritorniamo in Abruzzo e ripartiamo da un binario della ferrovia quello che Salvini vorrebbe raddoppiare della promessa che ha fatto a 96 ore dal voto tra poco allora 12.32 ritorniamo in Abruzzo perché perché le promesse corrono sulle gambe anzi potremmo dire sulle parole dei politici e siccome mancano 96 ore al voto come si dice in cergo le spariamo tutte e quindi le promesse le promesse sono tante mancano solo 96 ore tra poco cercheremo di capire però come il caso Abruzzo in realtà è un caso importante perché riguarda le infrastrutture gli investimenti saluto Carlo Cottarelli buongiorno economista da sempre fu premier indicato per ben tre giorni senatore del Partito Democratico quattro esatto ma quattro giorni scusami è vero premier indicato per quattro giorni grande economista di nuovo in corsa per l'europea adesso Cottarelli o no? non credo ma per il momento no poi vedremo 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 che succede vedremo che succede all'area liberal democratica il centro e quindi potrebbe semmai correre con il gruppo Bonino Calenda quello questo potrebbe essere semmai potrebbe va bene ve lo vedremo non d'accordo noi qua è una fabbrica di candidati se si mette questa che tira è una fabbrica Renata Polverini che non c'è bisogno di presentazioni che invece è in corsa per le elezioni europee bentornato da Alessandro Cecchibone che invece sostiene la Bonino vabbè benissimo e Antonello Caporale che è appena uscito con questo splendido libro scritto con Salvatore Merlo a quattro mani destra sinistra e viceversa ed è l'unico libro al mondo guarda qui da me alla regia è l'unico libro al mondo che si può leggere in più che ha la copertina stampata ma anche dentro si può leggere al contrario se no diventerà una lettura satanica spiego soltanto non è un'eccentricità io mi sono occupato della sinistra ma anche un'eccentricità è Salvatore Merlo della destra l'idea che la destra e la sinistra siano così contigue noi la neghiamo e le immaginiamo capovolte come era in realtà come dovrebbe essere allora una cosa molto concreta che riguarda destra sinistra e viceversa per cercare per citare caporale è questa roba qua ci riporta in Abruzzo allora per andare quanti sono che vanno a Pescara non lo so quanti però è un tema che riguarda le infrastrutture da Roma a Pescara ci vogliono in macchina in pulmare circa tre ore e 43 e 43 minuti c'è una cosa storica che è il tema delle infrastrutture sia l'autostrada sia in treno guardate qui Roma-Pescara lunghezza del tragitto 240 chilometri tempo minimo di percorrenza 3 ore e 20 minuti tempo massimo 7 ore e 58 minuti fermate da 21 a 31 parliamo del treno qui ovviamente quindi un conto della macchina un conto del treno tra 96 ore in Abruzzo tra 96 ore in Abruzzo si vota la nostra Ciotti è lì in Abruzzo dove sei esattamente Isabella buongiorno ri buongiorno sono a Carsoli buongiorno sono a Carsoli in provincia dell'Aquila siamo diciamo nella Marsica stamattina ero a Cocullo come hai visto ed sono alcune delle tante tappe di questa lunghissima ferrovia la Roma-Pescara tante tappe che come vedi sono questa è particolarmente sfortunata perché è una tratta a binario unico come adesso Enrico ti mostra e come vedi siamo un po' è una tratta abbastanza c'è una stazione molto piccola non c'è capostazione non c'è niente dovrebbe essere una tratta potenziata in realtà dal progetto della Roma-Pescara attraverso anche l'ausilio di autobus cioè siccome questi sono tutti piccoli snodi che sono attraversati per lo più da treni regionali le persone per arrivare a Roma o per andare verso Pescara hanno bisogno comunque magari di spostarsi anche con gli autobus sono tante piccole tratte Cocul è un esempio Carsoli è un altro esempio e i grandi snodi restano Sulmona e Avezzano perciò i sindaci di tutte queste piccole città chiedono che almeno vengano potenziati appunto i collegamenti con le città maggiori quelle dove effettivamente passa l'alta velocità quando si parla di Roma-Pescara bisogna insomma ricordarsi che al momento la fotografia della Roma-Pescara è questa tanti binari unici e stazioni molto piccole che fanno fatica diciamo a congiungersi con la linea ferroviaria principale e allora questa cosa qui molto interessante che ci racconta Isabella Ciotti è diventata la grande promessa elettorale sentite Salvini che cosa ha detto da parecchio che sento questo mito credi al sogno della Roma-Pescara ci vorrei credere alta velocità Roma-Pescara i fondi stracciati del PNRR nel 2023 rispuntano fuori a pochi giorni dalle elezioni che si tranno qui in Abruzzo questi sono i soliti giochi un po' di prestigio che sfuggono un po' alla realtà quella della gente comune potrebbe essere propagato cioè perché dobbiamo trovare sempre il sospetto da qualche parte perché in effetti è lentissima ci vogliono 4 ore e mezzo quasi 5 ore per arrivare alla Roma-Termine quando devi andare a Roma come fai? per la macchina ci sono molti che devono andare a Roma per l'università e lavoro e è una cosa molto molto utile un treno veloce dall'Adriatico al Tirreno una promessa lunga 20 anni quella di alta velocità le cose che vengono fatte in Italia bisogna farle subito a distanza di 10 anni che è già superato ci crediamo e speriamo bene tu ci credi abbiamo ancora la monorotaglia di Mussolini le cazzate di Matteo non ci credo le hanno promesse tante da quanto tempo ha che sente di questa da una vita la prima volta che ha sentito parlare della Roma-Pescara ero piccola bene 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 dopo la velocità lo riprendiamo datemi l'orario dei treni quanto ci vuole per andare lì guarda qui i treni eccolo questa altra parte qui Pescara-Roma e alla mattina ci vogliono almeno 3 ore e 25 minuti certo costa solo 15 euro e 80 ma è un viaggio meraviglioso puoi leggere tanti libri ma tanto non arrivi mai a tra poco Allora di nuovo in diretta sulle promesse le promesse che però costano anche un sacco di soldi Renata Polverini riparto da lei Meloni e Salvini riusciranno laddove è una promessa che per 20 anni quasi nessuno è riuscito a realizzare ma io penso di sì perché questa volta c'è il PNRR che ha un'opportunità che fino a qualche anno fa non c'era è una tratta che io ho percorso oggettivamente come dire non lenta di più e quindi è chiaro anche se è fuori dal suo collegio elettorale anche se è fuori dal suo collegio elettorale però arriva nel collegio elettorale se la vogliamo però magari ci sono un sacco di pendolari perché ci sono tantissimi pendolari ci sono tantissimi abruzzesi che vivono a Roma come tanti altri calabresi insomma ci sono persone che naturalmente si sono stabilite a Roma per lavoro ma ci sono lo diceva la ragazza nel servizio anche tanti ragazzi che vengono a studiare nelle università della nostra città quindi al di là diciamo dell'infrastruttura che sicuramente serve per mettere in connessione il paese siamo nel 2024 non possiamo più pensare che percorrere una tratta così breve ci si mettano addirittura 5 ore vediamo prima nel cartello Renata hai detto una cosa molto giusta però serve il PNRR e senza PNRR non si farà mai quindi l'assurdità di metterlo come un tema di una campagna elettorale per quanto importante regionale è clamorosa queste sono le classiche cose lo dico da liberale liberista che deve fare comunque lo Stato non deve fare la regione questo è fuori discussione che c'entra la campagna elettorale della regione però la campagna elettorale c'entra sempre perché l'elettore ti vota anche rispetto agli impegni che prendi e che dovresti mantenere perché non c'hai soldi come regione questa volta i soldi ci sono se lo dice la Meloni e non Marsilio molto probabilmente l'opera si farà proprio perché dipende dall'intervento del PNRR lei è stata anche presidente di regione per lungo tempo e quindi conosce qualcuno dice siccome c'è il governo amico allora ai governi amici arrivano più è più facile non si può dire mai soprattutto lei ha fatto il presidente con governi amici o nemici? io ho fatto il presidente con Silvio Berlusconi e poi con Mario Monti quindi nel periodo dell'austerity nel periodo in cui hanno tagliato tant'è che ci fu una vignetta che fecero dove Berlusconi mi tagliava i capelli proprio perché era il periodo in cui il governo era costretto a fare tagli in particolare sulla sanità ormai ci conosciamo da tanti anni quindi siamo molto dritti nelle cose lei esclude che ci sia il famoso regalino elettorando il fatto del governo assolutamente poi voglio dire ve lo ricordate ve lo ricordate Silvio Berlusconi è stato un grande maestro anche per Giorgia Meloni alla fine lui nella fase finale prometteva ma manteneva ancora ci ricordiamo lisci sulla prima casa con Romano Brodi Cottarelli e Caporale ovviamente allora come dobbiamo muoverci quando sono tutte queste belle promesse elettorali però in particolare la strada di cui stiamo parlando era stata stralciata dal PNRR cioè il dettaglio Caporale è anche un po' questo l'avevano tolto tra le opere da finanziare con il PNRR siamo al punto nel centro di gravità della comicità assoluta e da un punto di vista comunicazionale non credo che sia una magnifica idea al punto che io ho chiamato un esponente importante della coalizione dico ma vi fa piacere che a sette giorni no non può far piacere perché è così smaccata anche così svergognata l'impudicizia che uno anche se è vera perché è falsa perché l'anno scorso l'avevano definanziata come tu giustamente ricordavi cioè l'avevano tolta dal tavolo e adesso la rimettono è possibile malgrado Renata Volverini affermi il contrario che fra otto giorni cioè lunedì o martedì a seconda se Marsiglio o quell'altro sarà lì dentro la ritolgano e la riportino altrove ma che è il gioco delle tre carte lo scorso anno vi ricordate c'era anche fretta nel presentare i progetti a Bruxelles è un cattivo Matteo Salvini dovrebbe spiegare perché utilizza in questo modo il suo ministero e soprattutto dovrebbe valutare se perché è un ministro politico ma investire a tre giorni dalle elezioni è un buon investimento scusigli non è un investimento io però stavo dicendo che quando il governo si è insediato ha dovuto in qualche modo in maniera molto frettolosa presentare progetti e programmi a Bruxelles per prendere le famose rate del PNRR probabilmente poi nella fase successiva hanno un po' riequilibrato proprio rispetto alle esigenze dei territori io credo che questi del centro-destra siano tutti nervosissimi guarda Contarelli cosa ti faccio vedere così riprendiamo da te è molto divertente le dichiarazioni politiche sulla Roma Pescara storia di un lamento continuo guarda vero siamo alla stazione di Pescara in questo momento e chiediamo un'informazione sul prossimo treno per Roma quindi noi partiamo alle 15 15 e 10 e arriviamo alle 20 e 50 quindi sono 5 ore e mezza circa vado al massimo vado con fie vere l'alta velocità Roma-Pescara non esiste nessun documento del governo ne avete cominciato a parlare in campagna elettorale hanno detto che da Pescara a Roma e da loro a Pescara ci si impiega con la ferrovia 4 ore e mezza credevo mi volessero prendere in giro la prossima settimana sarò al ministero delle infrastrutture a pretendere i soldi e i progetti per fare l'alta velocità sulla Roma-Pescara oltre 10 miliardi sono diventati cantieri ho risorse da riconoscere agli enti locali tutte le linee ad alta velocità non sono progetti vecchi ma sono progetti estremamente innovativi la Roma-Pescara è una novità assoluta adesso qualche giorno al voto si svegliano a rifinanza un impegno molto concreto serio per la ferrovia è una svolta evocale non è la Roma-Pescara è la Pescara-Chieti è il lavoro che continuiamo a fare qualche giorno fa insomma lo sblocco di un'altra importantissima infrastruttura per questo territorio Cottarelli ce n'è per tutti qui in questo nostro come dire collage di dichiarazioni si fra l'altro il problema non è soltanto la Roma-Pescara sulla Roma-Pescara l'ho fatta anch'io in treno c'è un'altra complicazione che per andare a prendere il treno a Roma-Termini già di per sé uno deve camminare un chilometro per andare alla partenza del treno perché è nascosto in un binario molto molto distante da tutti gli altri però il problema non è soltanto la Roma-Pescara ci sono alcune regioni e l'Abruzzo è una di queste dove anche i trasporti interni tra regioni sono un disastro la velocità media adesso guardate perché noi vi abbiamo fatto uno studio in proposito la velocità media a cui ci si sposta in Abruzzo da un capoluogo di provincia all'altro è di circa 30 km all'ora all'interno della regione non è il peggio d'Italia il peggio d'Italia ce l'ha credo la Basilicata perché non c'è una linea diretta potenza Matera e lì allora bisogna fare un giro enorme per cui la velocità è circa di 10 km all'ora penultima sta la Sicilia dove la velocità media sono 26 km all'ora e al terzo ultimo posto c'è l'Abruzzo qui c'è un problema fondamentale di mettere a posto le reti regionali che sono quelli che la gente usa tutti i giorni per spostarsi anche all'interno della stessa regione che poi si venga a tirare fuori adesso questa cosa a pochi giorni dall'elezione è chiaro qual è è chiaro qual è la motivazione ma è un problema molto serio che non riguarda soltanto passare dall'Adriatico al Tireno ma anche all'interno delle stesse regioni e al sud è particolarmente grave quasi tutte le regioni che stanno all'ultimo posto in questa classifica della lentezza sono regioni del sud scusami Davide anche se lo sanno tutti però ricordiamo che questo è il prezzo che paghiamo una scelta fatta decenni 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 fa di dire andiamo tutti sulla ruota e non andiamo sul treno per questo abbiamo delle regioni che non hanno delle linee ferroviarie decenti perché prima dell'alta velocità l'Italia era un paese di automobili e di autocarri quindi di incidenti e quindi di inquinamento intanto la Ciotti la vedete in stazione in quale stazione sei? Sempre lì caro Isabella? Sono a Carsoli esatto questo è un regionale che è appena arrivato e parlavamo appunto i passeggeri sono dovuti chiaramente salire stanno andando ad Avezzano che è appunto un'altra delle tappe intermedie uno snodo dove di solito si fa il cambio treno si fa il cambio coincidenza e un signore mi raccontava proprio questo cioè la Roma Pescara è la promessa elettorale per eccellenza sono solo promesse elettorali ma alla fine non si arriva mai a una conclusione di questa eterna in compita perché non sali anche tu vai ad Avezzano anche tu sali sul treno vai bellissimo Avezzano mangi gli arrosticini meraviglioso sali lì ad Avezzano ti dico anche sta partendo però devo correre vai vai sali sul treno sta partendo purtroppo paghiamo noi arca miseria mi aggancio mi aggancio al volo no per carità abbiamo perso un biglietto potevamo ancora permettercelo però abbiamo perso un treno è un classico ho firmato un documentario che è andato sul web dal titolo La vita è un treno e ci sono 5.000 chilometri di binari morti e due capoluoghi di provincia Rieti e Matera che non hanno proprio la strada ferrata a Matera non arriva il treno a Rieti c'è un progetto però la grande questione che tu ponevi all'inizio di questa nostra parte di trasmissione è il ruolo di Salvini allora il fatto quotidiano in questi giorni sta raccontando come la campagna elettorale in Abruzzo 96 ore al voto e in realtà la fa pagare da ciccio voi dite la campagna elettorale Salvini la sta facendo pagare al ministero insomma coniuga i doveri di ufficio agli altri doveri sovrapponendoli così strettamente che può sembrare che i doveri di ufficio divengano i doveri elettorali allora questo è solo per l'economia del tempo è certo quel mezzo milione Salvini pur elettorale il MIT paga mezzo milione questo mezzo milione scusa cosa si riferisce al le spese credo al costo complessivo del trasporto immagino non lo so però mi sembra le spese dovrà dormire mangiare ovviamente però uno dice siccome lui è nella doppia veste sia di leader politico sono 12 gli eventi ogni evento ha una sua cerimonia dove lui presenta i progetti che riguardano il suo ministero e alcuni di essi anzi molti di essi si approssimano polverini ma questo diciamo che è normale nel senso anche io ho fatto il presidente di regione se mi recavo come istituzione in un luogo poi magari abbinavo il pomeriggio un evento politico ma questo ci sta del resto se sei un ministro politico devi curare anche il tuo partito e il tuo territorio ora tornando però perché adesso l'Obera chiudo soltanto fare il tour elettorale senza fare gli interventi pubblici ufficiali sarebbe una buona cosa una misura di pulizia ho capito ma nel frattempo dovrebbe sospendere la sua attività di ministro è sospesa in effetti diciamo che non è proprio insomma così dopodiché il PNRR in qualche modo darà una garanzia che questa opera si farà ma soprattutto c'è il progetto delle ferrovie immagino che Cottarelli lo saprà che finalmente è stato portato a compimento e il definanziamento fu fatto perché non era ancora pronto il progetto delle ferrovie quindi diciamo perché prima abbiamo un po' scherzato ma adesso andiamo sul serio adesso il progetto c'è i fondi ci sono il Cipe ha dato l'autorizzazione che è il comitato che come diciamo sappiamo e quindi probabilmente per la prima volta questo tratto di ferrovia verrà finalmente realizzato ecco ci sono tutte le cose che servono perché poi dietro ad ogni opera ci sono comitati ci sono ministeri che intervengono ci sono istituzioni locali c'è l'impatto ambientale quindi però sembra al momento che ci sia tutto quindi probabilmente per questo è stato annunciato in questi giorni cito una maldicenza sarà la fine dell'avanti e indietro se è vero di Marsilio l'attuale governatore dell'Abruzzo in macchina non va in treno secondo le maldicenze è una delle accuse che vengono fatte che è stato più spesso residente a Roma piuttosto che più spesso in macchina ne parlerebbe quindi lui sa qual è come dire infatti non va in treno il travaglio di questa strada allora torneremo a parlarne vedo già pronto Gianrico Carofiglio grande scrittore ex magistrato il suo nuovo libro è un best seller l'orizzonte della notte e con lui però torneremo anche sulla vicenda di cui si parla tanto in questi giorni politici e VIP gli spiati vi daremo anche ultime notizie in merito Tagliani dice capire perché e chi c'è dietro se ci dovesse essere qualora una regia a tra poco allora sono le 13.03 carofiglio è già in studio il suo libro un caso editoriale in testa a tutte le classifiche e ne parleremo tra poco prima però l'aria che tira con Paolo Sottocorona buongiorno buongiorno queste nuvole soprattutto queste sulle zone del centro si sono un po' intensificate adesso vedrete che erano previste delle piogge in realtà c'è stato qualche fenomeno intenso che ha avuto molta risonanza perché è successo a Roma se succedeva da un'altra parte magari non se ne parlava in una zona ristrettissima della città infatti qui alla 7 non è neanche piovuto ha due chilometri in linea d'aria ha fatto aggrandinato o cose del genere marzo è anche così una volta era così insomma marzo pazzerello allora vediamo la previsione per la giornata di oggi vedete delle piogge erano previste ma non intense se non sul Friuli Venezia Giulia e molto meno al sud però è una giornata con questi fenomeni che si vanno attenuando un po' infatti domani troviamo una situazione con molto meno piogge al nord molto deboli al centro qualcuna al sud sembra che tutto si stia attenuando ma come ti ricordavo ieri invece non è così perché ecco l'inizio del nuovo peggioramento venerdì tutto il settore più occidentale comincia a avere delle piogge anche piogge o nevicate se parliamo di Alpi anche piuttosto forti più deboli i fenomeni sul nord-est al centro e al sud ma tenete conto che questo peggioramento siamo a venerdì prenderà anche le altre regioni quindi il fine settimana è già programmato fine settimana già programmato non so che programmi abbia per il fine settimana caro figlio ma gli do intanto il benvenuto il suo buongiorno ultimo libro L'orizzonte della notte esito da Inaudi il protagonista per chi conosce i libri di caro figlio l'avvocato Guido Guerrieri è nel settimo capitolo il settimo capitolo mi riconosco perfettamente nella definizione capitolo sono capitoli ecco detto capitoli il settimo capitolo di un grande romanzo che appunto arriva oggi con questo nuovo con questo nuovo episodio e come tutti i libri di caro figlio che si ispira e affonda in quella che è la realtà si parla infatti molto qui della cosiddetta legittima difesa che è uno dei temi principali arriviamo alle novità di questo suo ultimo lavoro prima però anche da ex magistrato e da scrittore questa vicenda dei politici e i VIP dei dossier voglio farvi sentire che cosa ha detto Giorgia Meloni e poi un suo commento anche per capire come inquadrare questa vicenda questa storia vedremo che cosa ne verrà fuori sentiremo domani le audizioni anche dei procuratori che hanno chiesto di essere auditi dalla commissione antimafia io penso che sia francamente gravissimo che in Italia ci siano funzionari dello Stato che hanno passato il loro tempo a violare la legge facendo delle verifiche su cittadini comuni e non a loro piacimento per poi passare queste informazioni alla stampa e particolarmente ad alcuni esponenti della stampa perché voglio dire utilizzare così le banche dati pubbliche non c'entra niente con la libertà grazie caro figlio che cosa ha capito di questa vicenda io ho capito molto poco ovviamente come tutti perché siamo davvero agli inizi quello che capisco in modo un pochino più netto è purtroppo l'ennesimo elemento manipolatorio nella comunicazione della Presidente del Consiglio perché nel momento in cui la Presidente del Consiglio dice vogliamo sapere chi sono i mandanti da per scontato che ci siano dei mandanti o ben inteso può darsi che ci siano ma allo Stato non lo sappiamo ma formulare in maniera quasi incidentale un'affermazione del genere lascia supporre allo spettatore non particolarmente attento e del tutto legittimo non essere attento a ogni dettaglio che vi siano dei mandanti e dunque visto che la maggior parte degli come posso dire spiati sono appartenenti al centro-destra e allora i mandanti sono a sinistra guardate che questa è un'operazione davvero pericolosa perché inquina le fonti del dibattito pubblico e andrebbe rigorosamente evitata il fatto che ci sia stata un impossessamento abusivo e privatistico di cose riservate è naturalmente un problema grave che va indagato ma le spiegazioni possono essere le più vaste certo che se si accerta che ci sono dei mandanti io dubito fortemente però questa è una mia congettura che vale come quella della Presidente del Consiglio sono due congetture le congetture indimostrate non sono materiali di dibattito a meno che non vengano dichiarate come congetture certo che se si accerta che ci sono dei mandanti bisognerà che diciamo costoro paghino come gli esecutori materiali io però ho un po' di conoscenza di come funziona la psicologia di certi addetti a informazioni riservate e questa psicologia ha molto a che fare con l'acquisire per sé informazioni che potranno servire non tanto mettendole fuori ma facendo sapere all'interessato che tu ce le hai questo non sto dicendo che in questo caso è successo questo funziona in questo modo allora io congetturo se dovessi scrivere una storia che parla di questo mi immagino qualcuno che vuole accreditarsi e magari diciamo guadagnare qualche posizione stima, fiducia o chissà cos'altro rispetto ai nuovi potenti che si procura un po' di informazioni sui nuovi potenti in modo tale che questo possa essere in un modo o nell'altro materiale di scambio è una congettura ripeto io non so nulla diciamo di più concreto ma è una congettura come quell'altra molto interessante allora lei tiene insieme due cose il primo messaggio che mi sembra importante è quando c'è il Presidente del Consiglio che però fa questa comunicazione un po' vorrei dire subdola un po' double meanings con un doppio senso è il Presidente del Consiglio un conto magari siamo noi chi fa il giornalista chi fa lo scrittore noi stiamo dicendo chiaramente noi stiamo venendo sul tavolo delle ipotesi allora un conto dice giustamente caro figlio è analizzare delle ipotesi un conto è il Presidente del Consiglio che manda un messaggio e quasi fa capire che ci sia una centrale operativa comandata non si sa chi forse dall'opposizione e infatti la comunicazione di queste settimane è stata questa cioè si dice siccome molti dei protagonisti molti degli spiati sono dell'area del centro-destra poi ci sono dei misteri perché c'è la compagna dell'ex premier Conte c'è il Presidente di Confindustria però si fa capire che in qualche modo poi si dice il domani siccome il domani è il giornale di proprietà di De Benedetti allora vedete che tutto torna anche qui un conto è quello che fa l'informazione un conto è l'inchiesta giudiziaria anche in questo caso come ci si deve comportare? intanto bisogna chiarire una cosa riguardo alla posizione dei giornalisti che sono indagati io non ho nessun argomento per dire diciamo per quale motivo siano indagati ma fornendo diciamo delle coordinate al pubblico se un pubblico ufficiale che ha accesso a fonti riservate o segrete se ne impossessa per suo conto e poi le dà al giornalista il giornalista non risponde di nulla ha solo acquisito delle informazioni e ha fatto il suo lavoro diverso naturalmente se il giornalista va da questo pubblico ufficiale e gli dice o le dice per piacere vai viola i tuoi doveri impossessati di quella fonte e dammela ovviamente questo va provato in maniera molto rigorosa non so cosa ci sia nel fascicolo e lo scopriremo forse più in là ma anche su questo punto dire che non c'è un problema di libertà di stampa ancora una volta è formulare un'affermazione da un lato indimostrata e dall'altro vagamente ambigua perché se questi giornalisti hanno acquisito queste fonti in maniera legittima nell'esercizio del loro compito di giornalisti il fatto che loro ora siano bersaglio legittimamente di un'iniziativa giudiziare qualche problemino con la libertà di stampa direi che lo pone mi colpisce molto perché tutto questo avviene a 96 ore dal voto in Abruzzo e questo tema del cosiddetto dossieraggio è entrato prepotentemente nella campagna elettorale c'è poi il richiamo di Mattarella sediamo un minuto di Mattarella che proprio ieri davanti a un evento con la stampa ha ribadito l'importanza della libera informazione sentiamolo un secondo libertà di stampa fondamentale per la nostra democrazia come per qualunque democrazia che vede nella nostra costituzione una tutela netta chiara indiscutibile a fronte alla quale vi è una assunzione di responsabilità da parte dei giornalisti la lealtà la indipendenza dell'informazione la la libertà di critica nel rispetto della personalità altrui e rispetto dei fatti ma è un elemento indispensabile della nostra democrazia sono tante le cose che ha detto in pochi minuti il rispetto dei fatti un valore fondamentale sancito in diversi articoli in particolare dall'articolo 21 un richiamo che però per molti caro figlio diciamo il timing anche no arriva nel giorno in cui ci sono queste polemiche e il capo dello Stato si è sentito in dovere a volte si può affermare l'ovvio e sentirsi dire hai detto l'ovvio perché non c'è motivo però a volte in certi contesti si afferma ciò che è l'ovvio in una democrazia in un momento in cui questo ovvio viene messo in discussione da iniziative dichiarazioni atteggiamenti di appartenenti alle istituzioni per non fare nomi il capo o la capa del governo è chi le sta attorno e questo è un problema un problema piuttosto serio che segue è un problema piuttosto serio che abbiamo visto maturare qualche giorno fa quando la presidente del consiglio ha detto che se le istituzioni lasciano le forze di polizia scoperte è grave chiaramente diciamo indirizzando questa affermazione alle precedenti dichiarazioni di Mattarella che erano tutt'altro salvo poi secondo un rituale diciamo piuttosto stantio fare marcia indietro e dire mi riferivo alla sinistra allora siccome noi abbiamo un'esigenza di bonifica del linguaggio la sinistra non è un'istituzione la sinistra è una parte politica istituzione è chi è all'interno del sistema istituzionale rivestendo una carica un ruolo la presidente del consiglio è un'istituzione il presidente della repubblica è un'istituzione la sinistra non è un'istituzione e questo ci mostra ancora una volta i meccanismi dischiosi e molto pericolosi della manipolazione linguistica che taluni politici fanno allora torniamo al suo ultimo libro e a questo alter ego lo chiamiamo così l'avvocato Guido Guerrieri che ormai per molti lettori è attesissimo all'orizzonte della notte quanto lo scrittore caro figlio pesca da tutti gli ultimi fatti di attualità dalle grandi questioni dicevo che protagonista di questo ultimo romanzo è la difesa Salvini dice la difesa è sempre legittima quante volte le abbiamo discusso anche qui e quello è uno dei si è in qualche modo ispirato a qualche fatto particolare di cronaca non mi succede mai di ispirarmi direttamente a fatti recenti di cronaca il che non significa che fatti anche recenti di cronaca non influiscano nella produzione dell'idea della storia diciamo questo romanzo si divide in due grandi fondamentali parti che si intrecciano fra loro c'è una vicenda processuale un dramma processuale che è il racconto di un processo in corte d'assise per omicidio volontario è accusata una donna che ha ucciso con un colpo di pistola l'ex compagno della sorella un manipolatore un maltrattatore di una donna che poi si è suicidata proprio per via di queste cose lo ha vendicato in qualche modo le due tesi sono l'una che lei si sia difesa sia legittima difesa l'altra che invece lo abbia deliberatamente ucciso per vendicare la sorella l'altra storia è quella in parallelo del travaglio interiore del protagonista di Guido Guerrieri che fa i conti con la tristezza col passare del tempo col rimpianto con la perdita e contemporaneamente io dico però col diritto dovere di ricercare la felicità in ogni momento la storia processuale ovviamente prende diciamo così nutrimento dalle vicende della vita quotidiana e della cronaca quotidiana però una questione fondamentale io a Umberto Eco Umberto Eco una volta quando parlava del nome della rosa disse di averlo scritto perché la sua prima idea era quella che voleva uccidere un monaco nella storia del nome della rosa c'è una serie di omicidi di monaci e ovviamente non voleva uccidere nessuno ma voleva raccontare ecco io volevo raccontare credo assieme ad altre cose una situazione di una possibile vendetta di una donna per violenze su un'altra donna questo è uno dei temi assieme agli altri assolutamente attuale peraltro era stato pensato e scritto molto prima di quello che poi abbiamo raccontato in questi ultimi mesi dai fatti della cecchettina e non solo allora breve pausa pubblicitaria e poi ritorniamo perché ho una curiosità perché come sapete caro figlio nella sua prima vita ognuno di noi ha diversi atti nella propria vita nella sua prima vita è stato un magistrato ma non è che sognava di fare l'avvocato visto che alla fine il protagonista assoluto dei suoi sette romanzi è sempre un avvocato pubblicità tra poco allora ci avviamo alla chiusura con Gianrico caro figlio e il suo protagonista e i suoi lettori lo conoscono l'avvocato Guido Guerrieri alter ego dello scrittore che nella sua precedente vita è un magistrato e quindi il suo sogno era quello di fare l'avvocato il mio sogno non era fare l'avvocato e io stesso mi sono chiesto a lungo per quale motivo quando ho scritto il primo romanzo ho scelto un avvocato invece di un pubblico ministero poi l'ho capito mi è venuto così il racconto delle cose che conosciamo che è un racconto che può essere appassionante richiede il cambio di punto di vista Proust diceva il vero viaggio di scoperta non è vedere posti nuovi ma avere occhi nuovi e per me scegliere inconsapevolmente un avvocato era un modo per avere quegli occhi nuovi per guardare il mondo dei processi e tutto il resto che conoscevo bene ma che rischiavo di raccontare in maniera piatta se avessi mantenuto il punto di vista del pubblico ministero e quanto c'è di caro figlio nell'avvocato Guerrieri proprio da punto di vista caratteriale ma ci sono parecchie cose ovviamente abbiamo una convivenza molto lunga però io con quella che sembra una battuta ma non lo è direi oggi visto che sono passati tanti anni che la domanda potrebbe anche essere quanto dell'avvocato Guerrieri c'è in Gianrico Carofiglio l'orizzonte della notte in Audi grazie a caro figlio linea al TG la 7 noi ci vediamo domani stessa ora stessa rete e leggete leggete leggete